Beatrice, la domanda è inevitabile insomma, per il Filadelfia? Noi stravolgiamo in questo modo anche la nostra scaletta, ma anche perché lo stesso Cota poi nei giorni successivi disse allora ricapitoliamo la situazione di Cota, Cota 239 giorni fa e quindi possiamo anche vedere la nostra grafica perché noi gli facciamo il conto dei giorni dalla sua lezione, prima della lezione disse serve un progetto concreto in riferimento al Filadelfia, la regione può fare molto, basta parole servono fatti questo era rimasto un capitolo aperto ma senza novità, dopo questa vicenda della possibilità dei 2 milioni alla Juve Cota è intervenuto e ha detto la regione farà la sua parte nella fondazione Filadelfia come assicurato nei mesi scorsi e ovviamente faceva riferimento a quanto promesso prima delle elezioni Beatrice, nel frattempo possiamo anche vedere, lo dico alla regia, intanto siamo in diretta possiamo anche vedere la grafica che fa riferimento al conteggio dei giorni della vergogna che sono 4876, sono i giorni che sono passati da venerdì 18 luglio del 97 a oggi ed è una grande vergogna In fase elettorale lui aveva promesso e l'ha ribadito dopo e noi come associazione avevamo sottolineato questa promessa di Cota, anche se la precedente amministrazione con la provincia un giorno si erano presentati al tavolo del Filadelfia dove io come associazione ero presente e avevano detto che comunque avrebbero contribuito poi c'è stata la storia delle ipoteche bisogna dare atto all'assessore Sbriglio che da quando si è insediato ha fatto il possibile e in dirittura di arrivo dovrebbe essere già risolta e per Natale si definisce la questione Beatrice Tutti, quindi tutti gli attori, i tifosi abbiamo fatto il nostro i pulitori dei Filadelfia, i tifosi semplici, le associazioni sedute al tavolo, manca un attore che è il Torino FC che è stato seduto al tavolo con noi per un po' di tempo adesso sarebbe quello che ha il coltello dalla parte del manico perché è quello che potrebbe spingere sull'acceleratore e dare il via e invece... Gli concediamo ancora un mese di tempo nel senso che Sbriglio in questi giorni ha detto verranno cancellate le ipoteche entro Natale fra un mese e Natale diciamo che dal 15 gennaio si potrà davvero cambiare marcia Fabrizio che ne pensi? Rispetto al Filadelfia io ribadisco che ho smesso di crederci e non ci credo più e spero che qualcuno mi faccia capire che ho sbagliato però non ci credo più perché sono state perse talmente tante occasioni che continuo a sentire soltanto parole rispetto al fatto che fra un mese possa avere un atteggiamento diverso il Torino Calcio se si chiami Torino Calcio o Torino FC beh mi farebbe davvero molto piacere perché significherebbe che è successo qualcosa Cosa? Cosa ti riferisci? No, se mi dici magari fra un mese cambia l'atteggiamento di Torino FC No, 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 non mi riferivo io a accessioni societarie io mi riferivo al fatto che se entro Natale le ipoteche dal Filadelfia vengono davvero cancellate a quel punto l'area del Filadelfia è ripulita e allora davvero si può dare un'accelerata era legata a questo la mia affermazione No, no, hai fatto bene a dirlo però perché non vorrei essere malinterpretato No, no, se la società resta questa se il disinteresse resta questo noi abbiamo una società cioè abbiamo una squadra che sta facendo bene un presidente che non viene più allo stadio allora io posso capire che la scaramanzia nel calcio e nello sport abbia un suo peso però è un segnale di disinteresse che questa squadra e questa gente non merita La scaramanzia penso che sia scaramanzia a questo punto ma se per scaramanzia c'è desse la società così no, e dovesse girare bene qualche cosa come scaramanzia potrebbe provare a cederla no, e via, vediamo come va Si autocontesta, il primo contestatore perché non viene allo stadio Come certezze invece e così torniamo anche alla scaletta originaria torniamo dal Filadelfia torniamo all'Olimpico al comunale, chiamiamolo come vogliamo ed è certamente una tristezza perché vedere lo stadio desolatamente vuoto sabato scorso è davvero buono grazie a tutti